Mi ha fatto molto piacere premiare queste due tesi di laurea che si occupano delle questioni di genere perché ritengo che sia importante approfondire questo tema. Quindi abbiamo dato dei premi insieme a una serie di partner, insieme al Consiglio d'Europa, alla Presidenza del Consiglio, al Ministero degli Esteri, al Dipartimento, all'Assemblea parlamentare, alla rappresentanza parlamentare al Consiglio d'Europa. Quindi tante istituzioni che si sono messe insieme per dare dei premi a due donne, due giovani donne che hanno fatto delle tesi sulle questioni della violenza di genere. Queste due ragazze potranno poi fare un soggiorno al Consiglio d'Europa e avranno anche un sostegno economico per questo soggiorno. Quindi mi sembra un modo importante, interessante per sostenere l'approfondimento sulle questioni della violenza di genere che sono questioni che ci toccano tutti purtroppo perché è uno dei temi ancora così diffuso nella nostra società e quindi è importante fare degli approfondimenti anche attraverso lo studio nelle sedi universitarie.